Con un solo tocco puoi preparare un caffè di terza generazione direttamente a casa tua in tutta semplicità. Ti presentiamo The Oracle Jet, automatica in ogni passaggio. Macina, dosa e pressa il caffè con il touchscreen da 5 pollici. Con la guida per il barista potrai facilmente ottenere l'estrazione perfetta. Utilizza la messa in coda automatica per avviare la montatura una volta terminata l'estrazione. Auto Milk crea una schiuma vellutata con microbolle per la latte art con qualsiasi bevanda, latte vaccino, soia, mandorle o avena. The Oracle Jet, il nuovo modo di preparare il caffè, firmato Sage.